Si è tenuta presso la sala Borsellino della provincia di Crotone la conferenza stampa di presentazione del campionato italiano assoluto Vela d'Altura. L'ennesimo evento di un certo rilievo voluto ed ottenuto dal club velico Crotone e che vedrà dal 16 al 20 luglio più di 50 imbarcazioni sfidarsi nelle acque crotonesi. Una grande manifestazione, una manifestazione come la Calabria non l'ha vista mai perché è la prima volta che la nostra regione ospita il campionato italiano assoluto di Vela d'Altura. Quindi si tratta di barche importanti, barche performanti, barche prestigiose che verranno a Crotone a contendersi lo scudetto della vela italiana. Attorno a questo un villaggio con spettacoli, con musica, Crotone cercherà di offrire come sempre il meglio di sé e di contribuire ad una nuova narrazione della Calabria che si basa su nuovi contenuti perché di questo credo che si debba parlare. Dunque una manifestazione dall'importante richiamo turistico che testimonia ancora una volta il buon lavoro svolto dal circolo velico in questi soli sette anni di vita e che si va ad incastrare ad altri due eventi sportivi. Sì arriviamo a venti regate ma devo dire che queste manifestazioni si collegano ad altri eventi importanti che si svolgono nello stesso periodo nella nostra provincia. Io vorrei creare il ponte ideale fra questa manifestazione e i campionati italiani assoluti di beach volley che si svolgono a Ciro esattamente negli stessi giorni. Involgeranno una popolazione di atleti adulta, credo che partecipino anche i campioni olimpici e gli atleti under 18. Significa che finalmente il nostro litorale si comincia a caratterizzare in modo strutturato per gli sport che si svolgono a mare e sulla spiaggia. Perché è inconcepibile che il campionato invernale di beach volley si svolga al nord o che le più importanti regate italiane si svolgano sui laghi. Voi capite che non è colpa di nessuno se non nostra. Non abbiamo fino a questo momento puntato abbastanza su queste nostre risorse. Oggi sembra che la tendenza si cominci ad invertire, tant'è vero che ancora una volta nel mese di luglio avremo il campionato nazionale di kitesurf che non è detto che non coincida proprio con questa nostra regata. Intendo dire che il campionato di kitesurf che richiamerà i più importanti kriters italiani, circa 50, si svolgerà in un weekend in cui potrebbe coincidere con il campionato di livello d'altura che si disputa dal 16 al 20 luglio. Perché la formula è quella di un waiting period, cioè di un periodo d'attesa. La regata sarà chiamata con un semaforo verde quando ci sarà vento. Quindi se il vento accompagnerà il campionato d'altura avremo la coincidenza fra questi due eventi. Per cui presso il nostro club bellico Crotone Sport Beach avremo gli aquironi in aria e lo spettacolo del kitesurf e in città, nel golfo, davanti alle case avremo il campionato d'altura. Intanto il beach volley a Ciro. Io credo che vada comunicato tutto questo in modo integrato per parlare di una provincia di Crotone che si presenta all'Italia e al mondo in un altro modo. Soddisfatta allo stesso modo anche la Presidente del Comitato Sesta Zona per Calabria e Basilicata, Valentina Colella. Cosa vuol dire il campionato di vela d'altura per una città come Crotone, per una regione come la Calabria? Sicuramente portare l'Università della Vela, se possiamo definirla così, dove il professionismo sicuramente è di casa, dove c'è una qualità elevatissima dei regatanti, di equipaggi che si ritrovano in tutti i campi di regata più importanti. Quindi credo che per Crotone, ma per la Calabria intera, sia una bellissima occasione sportiva. Restando appunto sul territorio, è l'ennesimo evento per Crotone che da qualche anno, da quando il calabria velico ha iniziato, sta riuscendo a portare sempre eventi più importanti relativamente alla vela? La vela su Crotone esiste da 30 anni, Crotone ha una vera storia per la vela italiana. Sicuramente la Federazione Italiana Vela ci ha dato grandissima fiducia, noi fino ad oggi, e spero che continuiamo in questa maniera, non li abbiamo mai traditi, per cui siamo riusciti a dar loro, oltre che eventi velici di altissima qualità, grazie alle condizioni atmosferiche e meteorologiche che ci aiutano, ma anche un'accoglienza del territorio, che è sicuramente ospitale, aperto alle manifestazioni sportive e che mette a propria disposizione tutto quello che loro posseggono. Quindi quest'anno la Calabria ha uno scenario di manifestazioni sportive di altissimo livello, luglio Crotone con il campionato italiano d'altura, fine agosto, prima di settembre Reggio Calabria con il campionato italiano singoli, e poi ancora il trofeo CONI dove la Federazione Italiana Vela sarà presente a Crotone. Sarà la ventesima regata portata a Crotone dal club velico che, come detto dalla sua nascita, è cresciuto in maniera esponenziale. La presidenza, affidata a Francesco Verri, ha portato solo benefici al club stesso, così come alla città, anche se forse questo potrebbe essere l'ultimo evento con Verri presidente. Io presiedo il circolo da sette anni e sette anni sono tanti. Non sento la fatica perché il lavoro l'ho diviso con i miei soci, con i miei amici, però è cominciato un percorso di rinnovamento, di cambiamento, anche se siamo giovani, perché non credo nelle monarchie, credo che invece queste associazioni debbano essere inclusive, debbano comprendere figure sempre nuove. Infatti io ringrazio pubblicamente il dottor Salvatore Gaetano per aver accettato di presiedere il comitato organizzatore e quindi di mettere a disposizione la sua esperienza nel settore imprenditoriale, nel settore della comunicazione, a beneficio non solo del nostro circolo ma della città, della Calabria e dell'Italia della vela. Io credo che il futuro del nostro club e il futuro, se vogliamo, di questo sport e dell'impatto turistico che si lega a questo sport passi proprio per l'inclusione delle migliori espressioni della borghesia cittadina, per il coinvolgimento delle imprese sane ed eccellenti, per un approfondimento delle radici che noi abbiamo cominciato a mettere nel 2012. Dopodiché questo resterà sempre il circolo del mio cuore ma è chiaro che esistono dei periodi, esistono delle stagioni, degli impegni professionali che ovviamente reclamano tutto il tempo di un avvocato in questo caso ma anche, devo dire, di un papà visto che qualcosa cambia anche nella mia famiglia i miei figli sono cresciuti ed ecco perché il richiamo è a tutti perché si impegnino e perché insieme a me, insieme a noi, diano continuità a questo progetto che per tornare alla domanda che mi veniva posta prima ha raggiunto il traguardo di ben 20 eventi fra nazionali e internazionali che hanno prodotto oltre 100.000 pernottamenti in una città che non conosceva il turismo invernale e che invece adesso lo vive come una realtà. Grazie. 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 Grazie.